In questo video vi farò vedere come creare un grafico su Excel OpenOffice, quindi OpenOffice Calc, partendo da un foglio di calcolo che avevo fatto in un altro video su come creare un foglio di calcolo di base su Excel OpenOffice. Quindi, per creare il grafico, innanzitutto, devo andare a sottolineare, quindi ve lo consiglio, lo potreste fare anche in un secondo momento, però, io vi consiglio di farlo, andate a sottolineare la parte del grafico che vi interessa. Quindi, fate ad esempio, andate a sottolineare questa, che è la parte del grafico che ci interessa, escludendo i totali, altrimenti se vado a sottolineare anche i totali, metterà anche questi nel grafico. Dopo vado, inserisci, e scrivo inserisci grafico. Premo su inserisci grafico. Dopodiché, come vedete, mi metto subito il grafico accanto, e innanzitutto vado a scegliere il tipo di grafico, che può essere a colonna, in questo modo, sovrapposto. Quindi, qui mi indica, il primo mi indica calcetto, e i minuti di calcetto che ho fatto in ogni mese. Quindi, per gennaio ho fatto questi minuti, per febbraio questi minuti, e così via per le varie attività, e le barre indicano i mesi, i minuti di mesi divisi per le varie attività. E i colori, qui c'è la leggenda accanto. Poi, anche qui avrei altri tipi di grafico, sempre all'interno delle colonne. Questo le indica in un altro modo, cioè me le mette sovrapposte, sostanzialmente le colonne di prima. È un po' meno leggibile, secondo me, però magari più utile, poi ogni grafico ha la sua utilità in base a quello che vado a rappresentare. C'è sempre quello magari più utile, poi a volte non cambia niente fare un grafico all'altro, a volte fare un tipo di grafico diventa sbagliato. Questo invece mi indica la percentuale. Come vedete qui accanto sono spaliti i minuti, ma viene indicato la percentuale di tempo che ho fatto, diciamo, il calcetto l'ho fatto prevalentemente a febbraio, come vedete. Non ha molto senso, però è il nuoto prevalentemente a maggio. Oppure ci sono altri tipi di grafico, qui sempre con le barre, con le colonne però di traverso, quindi a barra si dice. Oppure con la torta, quindi mi dice che prevalentemente con la torta, infatti cambia, perché non ci sono più i mesi, ma mi dice che io prevalentemente ho fatto la bici e poi un po' la corsa in questa fetta, il calcetto in questa fetta e il nuoto in questa fetta, in termini di minutaggio ha un senso che abbia fatto maggiormente la bici. Oppure ci sono altri tipi di grafico, ad esempio con le linee, poi lascio a voi la scelta. Torniamo sulle colonne che è quello che magari si adatta un po' di più al nostro foglio di base. Possiamo andare qui a scegliere aspetto in 3D, come vedete cambia, realistica, semplice, possiamo cambiare a cilindro, mettere a cono, quindi vedete voi quello che mi interessa di più. Vado a togliere l'aspetto 3D, poi possiamo cliccare su avanti e passiamo su area dei dati. Qui è l'area dei dati su cui va ad agire il grafico, è quella che ho selezionato io utilizzando il mouse, però avrei potuto farlo direttamente di qui, andando a scegliere da A2, che è questa riga qui, a G6, che è questa riga qui, come vedete, ora qui c'è il dollaro, poi magari in un altro video vi spiegherò cosa serve il dollaro. Poi qui posso scegliere di cambiare, qui ho messo le leggende sui mesi e in basso il tipo di attività. Premendo qui, che secondo me ha più senso, farei il contrario, quindi metterei per gennaio le attività che ho fatto e la leggenda del tipo di attività qui sulla destra. Quindi secondo me ha più senso farlo così per questo tipo di grafico. Dopodiché vado su, posso andare ancora avanti, qui posso andare a aggiungere, rimuovere tipi, per esempio potrei rimuovere il calcetto dal grafico, cliccando su rimuoveri, potrei aggiungere altre cose che prima non ho messo, e comunque per ora lasciamo perdere le opzioni più dettagliate. Facciamo vedere come fare un grafico e i suoi principali aspetti. Ora un altro aspetto che vi voglio far vedere è dove mostrare la leggenda. Quindi qui c'è la leggenda, che è questa, i colori, il tipo di attività, qui a destra, potrei decidere di metterla a sinistra, come vedete non la sposta, in alto oppure in basso. Forse questa è quella più bellina. Quindi lasciamo questa, facciamo fine, e come vedete ora ho il mio bel grafico che posso andare a spostare un'altra parte per non coprire i totali, e poi all'interno posso andare, come vedete, a modificare i colori. Quindi, come vedete ora io ho cliccato sulla barra verde, se ci clicco due volte mi entra dentro la barra verde. Come vedete ora potrei andare a cambiare il colore da verde, che ne so, a viola. Potrei qui andare a agire sulla specifica del viola, eccetera. Come vedete mi ha cambiato il colore. Poi, cliccando qui, potrei andare a agire sulle leggende, cambiare il tipo di carattere, che ne so, dal normale a in corsivo, e vado ad agire sul tipo, sulla leggenda. Vedete mi ha cambiato le caratteristiche. E qui, sempre, su ogni opzione, me la sottolinea, posso andare a fare delle modifiche. Quindi, bordi, trattezza piana, posso, chiaramente, andare ad ingrandire il grafico, oppure a rimpicciolirlo, a spostarlo, come vi ho fatto vedere di prima, oppure, pregando cancio, a cancellarlo. Quindi, niente, vi ho fatto vedere brevemente come si creava un grafico, non sono entrato troppo nei dettagli. Chiaramente posso entrare anche nel dettaglio dei mesi. Quindi, per ora, per questo video, è tutto. Alla prossima!